La pedemontana Veneta si farà in qualsiasi caso, ne è convinto il governatore del Veneto Luca Zaia, alla luce delle difficoltà emerse negli ultimi tempi sulla più importante infrastruttura in costruzione nel nostro paese, a cominciare dai dubbi sull'emissione del miliardo e 600 milioni di euro di bond e sui flussi del traffico, dubbi che si stanno discutendo attorno a un tavolo tecnico. Siamo ormai alla terza riunione del tavolo dei tecnici regionale e nazionale con il commissario, si sta lavorando per degli aggiustamenti e spero che si trovi subito una soluzione. Il nostro ruolo è chiaro, il ministro ha un ruolo di vigilanza, la regione ha un ruolo del concedente e il concessionario ha un ruolo del concessionario, cioè deve realizzare l'opera. E tutto questo lo facciamo non perché difendiamo gli interessi di un privato, ma perché dobbiamo difendere i nostri singoli interessi. Ricordiamo che tra i principali interessati alla questione pedemontana ci sono tra l'altro tutti gli espropriati che avanzano 300 milioni di euro e le ditte che hanno già lavorato e avanzano ancora i soldi. Si attende una risposta almeno dopo l'estate. Io spero che per fine settembre, comunque di rifa o di raffa come si dice, bisogna arrivare a una soluzione. Non è che possiamo rimandare di un anno i lavori del tavolo. Si dica quali sono gli aggiustamenti, se si possono fare bene, altrimenti se ne prenderà atto. Resta da capire ora cosa comporterà il prenderne atto.